Quindi proprio alla medaglia d'oro, al primo classificato che vince un premio offerto dall'Associazione Culturale Sant'Agostino e la partecipazione alla semifinale nazionale del concorso Canoro, una voce per Sanremo. Premiano il coordinatore del concorso, una voce per Sanremo, Carmine Nappi e la presidente della commissione, quindi Veronica Creo. Chi sarà il primo classificato, secondo voi? Io lo so, 133 punti. Si classifica al primo posto della quarta edizione del festival Sognando le stelle, Valentina Grimaldi, con io e te da soli. Prego a premiare Carmine Nappi e Veronica Creo. Tanti complimenti a chi dedichiamo subito questa vittoria? Patrizio, microfono! A chi vuoi dedicarla? Innanzitutto a tutti i miei compaesati, al mio paese, a mia madre, un saluto immenso e a tutte le persone che mi vogliono bene. E che ti sostengono da sempre. Grazie e l'applauso va a tutti i ragazzi, veramente complimenti a tutti. Patrizio, siamo proprio ai titoli di coda, sigla finale, questo qui lo teniamo per ricordo, naturalmente andrà poi agli atti. E allora, detto ciò... Penso che abbiamo detto tutto. È stata una grande serata e io vi ringrazio che ancora state tutti qui presenti. Il prossimo anno, per la quinta edizione, ci ritroveremo qua, con te Paola sicuramente, e spero con tutti quanti voi. Grazie, grazie a tutti e buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte, sigla! Grazie! Alza il volume della sigla. Un po' via con un saluto, ragazzi, ragazzi! E ragazzi! 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 Vedete le mani? Un po' via con la onda, un po' via! Ok, buonanotte! Yeah! 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 Grazie a tutti.